ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su kenshi un gioco che avevo acquistato nel 2013 e avevo portato in video nel 2018 ed è uno dei video con diverse migliaia di visualizzazioni uno dei più visti sul canale ed è un gioco per cui attualmente in italia non esistono video non esistono tutorial c'è qualcuno che come me lo ha portato per mostrarlo ma nessuno ha mai insegnato come giocare voglio diciamo portarvelo per chi magari sul canale è arrivato dopo si è perso quel video un richiamino insomma è uno dei giochi secondo me con la più ampia esperienza di sandbox e survival che si siano mai visti in un gioco per pc è un gioco incredibile ma anche terribilmente difficile beh mai quanto Elden Ring però ci sono vari tipi di inizio che variano da diciamo l'utilizzo normale cioè l'avvio normale per cui è stato pensato il gioco passando per questo che lo dà addirittura facile cioè qua abbiamo mille cats che sono cat cats e le monete di gioco i crediti questo addirittura me ne dà zero però è un stile trading rpg praticamente prendi l'ultimo ah hai un sacco di roba da vendere come venditore perché in pratica potete fare qualsiasi cosa dall'essere nessuno dall'essere uno schiavo dall'essere qualsiasi cosa voi vogliate potete diventare veramente qualunque cosa e avete qua una serie di interessanti parametri da poter modificare dal tempo di delle chance di morire insomma io lascio tutto così com'è ci sono varie razze da cui possiamo scegliere all'inizio e vi faccio vedere per l'ennesima volta per la seconda volta il gioco comunque è uscito dalle access adesso non ricordo esattamente se il gioco è è ufficialmente uscito ma dovrebbe essere sì è uscito è uscito precisamente a fine del 2018 e costa 26 euro 99 quindi non costa senz'altro poco li vale per quel poco che ho giocato per quel poco che ho visto sì assolutamente così tanto quanto vale ogni singolo centesimo di Rimworld per farvi capire siamo uomini possiamo scegliere la nostra faccia i nostri capelli andiamo a metterci come giusto che siamo le barbe sono terribili il colore così le mettiamo tutte nere il moustache magari anche no mi metto ci sono veramente delle cose ecco qua sapessi come colorare gli occhi ma va bene e iniziamo dai e no fatemi vedere il corpo com'è perché non voglio essere possiamo fare la nostra posizione di idol la nostra postura se più incurvati o meno io le spalle le ho abbastanza larghe così neck position mamma mia possiamo fare gollum no dai non voglio essere altissimo perché ok va bene iniziamo dalla border zone sono tot chilometri quadrati e si inizia sempre a lab con una città vicino allora io non voglio insegnarvi giocare vi posso solo raccontare quella che è stata la mia esperienza di partita dopo anni di non gioco beh sono uscito dalla città ho incontrato dei briganti mi hanno inseguito non mi mollavano mai sono arrivato alla seconda città li hanno spianati le guardie le guardie poi io mi sono messo a lutare nel mentre mi li hanno portati via da sotto le mani perché perché li hanno portati in prigione e in sintesi li hanno proprio messi fisicamente dentro le gabbie ma intanto iniziamo ad analizzare quella che può essere l'inizio tra l'altro fatemi sapere che cosa ne pensate perché è molto importante per me sapere il parere su questo gioco sull'idea di questo video avevo quella la mezza idea di approfondirlo un po di giocarci boh vedremo intanto in città ci sono c'è il bar dove potete andare potete fare qualsiasi cosa da rubare muovervi furtivamente andare a vedere con questo tasto i piani quindi c'è qualcuno anche il piano di sopra si può andare a reclutare gente unirsi alle conversazioni vedete in questo caso voglio parlare sei qui per bere no sono qui per no non mi parla nessuno ma questo che è da solo ecco questo qui mi dice bisogno di un gunner quanto vuoi 6.000 no non ho abbastanza soldi questo invece mi commercia varie cose da questo che non so cosa sia delle katane delle ninja blade una clava varie cose da mangiare al momento un po di soldi li abbiamo ma se calcolate abbiamo mille e comprarci questa sorta di melanzana non costa tantissimo costata entra ma anche solo guardare questo rotolo di carne ci costa 574 quindi oltre la metà di quello che possediamo queste sono credo le guardie posso andare a parlarci volendo vediamo se mi ci fa parlare e la figata che appunto ogni storia è diversa sto cercando di assumere qualcuno come guardia vogliono 2000 al giorno un giorno al minimo no grazie perché voi potete andare a fare veramente di tutto potete andare a minare singolarmente potete cliccando con questo tasto andare a costruirvi una piccola baracca un camping una farm delle torch post quindi delle luci una miniera dei diciamo macchinari per processare le pietre e poi il tavolo da ricerca ci serve sempre il building material che è l'unica risorsa diciamo ci permette di costruire vedete che ce lo fa posizionare tra l'altro all'interno della nostra base qua adesso non la vediamo però ci sarà modo di vedere adesso non me la fa costruire perché è in città però dovremo scegliere se accogliere qualsiasi fazione se potremmo se lo stato della del rifornimento dell'energia perché andrà anche alimentata un po alla rimward un po come qualsiasi survival ma potremmo anche vivere nell'ombra e quindi fare i ladri arpinare negozi case uccidere guardie ma anche muoverci furtivamente perché qui con il va abbiamo un inventario dove non abbiamo niente poi qui abbiamo le sta statistiche quindi tutti i nostri attributi che influenzano varie cose dalla forza che influenza il peso trasportato la velocità di attacco con armi pesanti la forza del combattimento così via la taurness i danni delle arti marziali il tempo di knock out varie cose e ci dà anche come vengono vengono apprese l'unica cosa che vedete in questo caso forza l'aumentate trasportando per persone o usando armi più pesanti o trasportando pesi pesanti questi sono gli attributi un po come forza della stessa costituzione in un gioco di ruolo e qua invece sono le varie skill che salgono facendo le diciamo le varie cose piuttosto di usare un'arma piuttosto che un'altra di continuo facendo ricerca costruendo robot facendo di qui e di là saliranno le skill poi abbiamo fatemi vedere la mappa le fazioni che ci vengono mostrate qui con i banditi che stanno morendo di fame che sono in guerra con noi così come anche i banditi della polvere la sacra nazione dei fuori legge no gli aunts no l'agilità dei mercenari no e i ninja trader no la research è molto importante perché se costruiamo un tavolo di ricerca possiamo ricercare nuove ricette di crafting che vanno da lo storage la vendita pubblica le difese il generatore a carburante a vento l'illuminazione interna il farming l'industria quindi la produzione di piastre metalliche le scatole così via lo smiting quindi creare vestiti vestiario e training per fare i vabbè manichini per allenarsi questo lo potete fare o comprando in una città una casa e quindi lavorando ricercando protetti dalle guardie oppure costruire appunto il vostro accampamento ma la figata è che potrete essere sommersi dalle richieste di tasse da parte di alta gente e poi abbiamo la menu scusate questo menu di squadra dove potete gestire la vostra squadra qua avete il crafting non abbiamo nulla perché non abbiamo ancora le station tutti i dialoghi che abbiamo visto e letto e qua come configurare la IA sì perché potremmo gestirci la nostra tribù e quindi di conseguenza andare a dargli dei lavori automatici in questo caso il mio personaggio ha selezionato queste poi potrete selezionare singolarmente ogni personaggio o direttamente dal menu di gioco cioè dall'interfaccia qua di prevalentemente usare l'attacca a distanza posso attivare e disattivare fare i lavori se io tolgo la spunta l'idea di fare un lavoro tipo minare non lo farà tenere la posizione bloccare essere passivo sneak e quindi muovermi furtivamente una delle cose che viene suggerito in qualsiasi tutorial è quello di cercare all'interno della città iniziale un una casa disabitata come questa in questo caso chiuderci dentro ho fatto un save voglio ribadire questo save perché voglio muovermi furtivamente e far salire un pochino la skill intanto vediamo quant'è la nostra skill di dov'è che ti veri lockpicking stealth 1 ok ci muoviamo singolarmente piano piano ice with prendo tutto prendo tutte queste cose io non ho li flame abbiamo tiene premuto lockpick to pick the lock e che non lo so fare credo di non saperlo fare no ok cliccando con un altro lo sto facendo abbiamo una chance del 14 per cento a letto riproviamo la chance aumenta ogni volta perché aumentiamo anche la nostra esperienza no dai continua a provare potete velocizzare il tempo questa non so se sarà una casa che potremmo acquistare però è molto interessante il fatto di comunque avere una completa libertà e poterci stabilire iniziare il nostro progetto di commercio in città perché una volta che avete una una casa potete farvi una carovana a reclutare gente a reclutare guardi e andare a commerciare tra varie persone tra varie città scusate abbiamo all'interno dei rapporti che io prendo non so che farmene abbiamo del room abbiamo delle cose che non possiamo prendere perché siamo pieni tra l'altro non valgono niente stelling chance del fabrics water jug quella della carne questa vale tanto e mannaggia non possiamo prendere niente niente d'altro però mi domando se questa roba sia vendibile o risulti marcata come rubata stolen eh sì è rubata quindi credo che non non si possa fare granché però vabbè intanto ci siamo fatti magari un po di un po di esperienza infatti vedete che lock picking 4 la cosa interessante mi tolgo adesso dallo sneak ed esco a volte possono farci anche del delle ispezioni uscendo dalla città quindi ci sono i cancelli da cui si esce qui dove che è no l'uscita della città è qui ci fanno una perquisa e se si trovano da sua roba non so che cosa possa succedere comunque qua sotto vedete che potete correre camminare andare a passo svelto oppure questo questo significa è molto interessante ci ho messo un po' a scoprirlo quando si cammina con più persone onde evitare che le più veloci scappino avanti e le più lenti rimangano indietro questa manda tutti alla velocità del più lento in gruppo il bello e da qui nascono un'infinità di situazioni che possono capitare all'interno del gioco è il fatto che che so uccidete qualcuno e poi decidete di portarlo con voi che so volete mangiarvelo volete insomma siete disperati e se non leggete cliccando su di lui vedendo tutti i vari parametri da fame allo stato del busto, della testa, il sangue, gli arti non vedete che è morto quindi qui che è morto il tizio lì si riprende e vi riempie di botte appena si riprende con ovviamente la sua debolezza dovuta allo svenimento che ha avuto quindi bisogna fare attenzione a un sacco di eventi in partita così come potrete essere catturati e chiusi in gabbia e a quel punto un paio di maniche per voi perché potrebbero lasciarvi chiusi sempre in gabbia fino alla morte quindi se non avete una skill di lockpicking non ve ne andate e di cose ce ne sono veramente un'infinità abbiamo aumentato un pochino la skill del furto e vediamo se al bar riusciamo adesso io salvo di nuovo perché voglio vedere se riesco a salvare questa io ve la butto lì voglio vedere con quale entusiasmo con quali views viene visto questo video perché c'era la mezza idea di mettermi a fare una serie ma serie non vanno molto però voglio vedere con quale entusiasmo mi accettate questa cosa l'ho venduto tre dodicimila duecento ventuno un libro religioso io vendo tutto died meat rum water jug non lo vendo vendo queste due e fuori i rapporti posso vendere i rapporti no perché non me li pagano comunque abbiamo fatto settecento monete non è andata malaccio ho rischiato è che mi prendessero mi venissero a prendere tutti che belle animazioni che ci sono qua e vediamo l'esterno adesso se si può fare qualcosa adesso vediamo più che altro se mi perquisiscono perché il gioco è ricco di particolari e in inglese nessuno credo abbia mai tentato di tradurlo forse agli inizi qualche utente aveva pensato di iniziare a tradurlo ma poi sembra essere abbastanza complicato quindi a livello grafico non è nulla di miracoloso però è fluidissimo quello che c'è da dire è che è fluidissimo qua probabilmente generano energia elettrica vediamo un po' che cosa succede se glico lì che c'è uscito il simbolino del power output sì la città è alimentata dall'eolico in realtà potremmo andare nelle montagne e dovrebbe esserci la possibilità vedete in questo caso su questa roccia di minare minare e farci magari c'è più vicino qua andiamo qui dobbiamo sempre fare attenzione e guardarsi intorno che non ci siano briganti questi qua chi sono o lì nation outlaw no non dovrebbero non dovrebbero farci nulla qua ok non si può costruire ma mettete caso siamo lontani su un'altra cima creiamo il nostro accampamento la nostra casetta la costruiamo iniziamo a minare mettiamo si presenta una tribù si presenta una fazione e ci dice adesso ci paghi tasse o ti assaltiamo e voi pagate o non pagate però dovete approntare le difese il gioco diventa estremamente difficile comunque abbiamo iniziato il mining ora cliccando col sinistro compare questa barra qui che contestualmente poi al menu dovremmo allora io adesso velocizzo il tempo voglio vedere anche se le statistiche aumentano è tutto uno abbiamo aumentato solo athletics perché abbiamo corso come dei pazzi finora e dovrebbe salire anche laboring che dovrebbe essere il e si vedete il next level di laboring se mi fermo sopra laboring a breve abbiamo fatto il livello 2 quindi diventeremo da 52% e si siamo diventati più bravi va bene siamo mining il livello 2 a breve finiamo di scavare e quindi iniziamo a farci i nostri primi soldi qua abbiamo questo nel mentre facciamo il nostro lavoro ovviamente non abbiamo un tool viene tutto fatto automaticamente ci stiamo stancando no più che stancando ci stiamo appesantendo abbiamo un ingombro del 27% laboring livello 3 quindi stiamo andando alla grandissima ma siamo forse un pelino affamati ma a breve avremo modo abbiamo una percentuale del prezzo del 72% qui ed è usato questo materiale in iron forse consigliavano il copper comunque pesa 9 kg e direi che ok ne abbiamo preso un altro dobbiamo essere 54% di ingombro adesso no è 50 più o meno sì perché direi che possiamo andare anche così no ne prendiamo uno ancora vediamo come stiamo andando sì dai uno ancora poi andiamo a venderli e vediamo quanto guadagniamo vendendoli al bar poi molto importante il fatto che magari potete perdere degli arti quindi metterci degli arti delle stampelle insomma per andare in giro sono tanti aspetti del gioco che sono fighissimi ora ho accelerato il tempo ma giusto per rientrare in città se no sarebbe la velocità questa abbiamo intanto raggiunto vabbè qua athletics ci esce qua sotto la skill che stiamo utilizzando al momento in realtà abbiamo fatto laboring 5 quindi siamo messi abbastanza bene non so su che massimale però intanto abbiamo il bar qui di solito c'è sempre anche un negozio forse non c'è in questa città di non so se un emporio nel bar però possiamo dormire qua non c'è nulla al momento non so se poi già in questa città in questo hub ci saranno case acquistabili mi sa andando avanti nella prossima città quindi quello che possiamo fare è diventa praticamente un gestionale il gioco andando avanti oltre che un survival dai entra senza indugio vai su ci sono dei letti si può dormire ma io credo che non si possa dormire così liberamente si debba pagare intanto vediamo quanto guadagniamo abbiamo 1714 1 2 e 3 da 1714 a 1900 ne vale la pena per fare due soldi sì ma in realtà no però per farci salire un po' la skill potrebbe anche andare andiamo a 2 e vediamo se riusciamo a dormire ah ok ci ha pagato 50 per l'affitto del letto e andando nel letto riposiamo le nostre membra passa un po' il tempo è mezzanotte anche se in realtà qua non dava l'idea del giorno anche se bellissimo perché vedete tutta la galassia in fondo anche il movimento terrestre mamma mia e niente col tasto centrale del mouse portate comunque la visuale è tutto molto ci sono mille storie in realtà non c'è una storia principale le storie ve le create voi ed è uno di quei pochi giochi dove davvero vivete delle avventure in base alla casualità che vi propone il gioco e diventa anche esilarante appunto il fatto di aver visto tutti questi briganti che mi hanno mi urlavano adorso fermati non ti facciamo nulla io mi sono fermato hanno iniziato a picchiarmi sono scappato scappato per mezzo mondo ho fatto tutto il percorso fino all'altra città le guardie li hanno percorsi rudemente e nel mente di lutavo li hanno presi sono andato a vedere dove li portavano li portavano in questa torre a tre piani li portavano al secondo piano e li chiudevano nelle gabbie alcuni erano legati a un palo alcuni erano chiusi dentro una gabbia a un certo punto uno è iniziato ad andare a gattoni a scappare era un po' baggato perché continuava a fuggire lo li prendevano lo li portavano in gabbia a un certo punto è iniziato a gattonare giù per le scarpe e fuggire e vai te a sapere cosa succede e stessa cosa pensate se gestite voi un accampamento vostro uccidete o stordite gli aggressori li chiudete in gabbia che cosa ne farete di loro si potranno convertire la vostra causa o meno e diventeranno degli schiavi e voi decidete che cosa succede in Kenshi e non è sicuramente il gioco più friendly che io conosca anzi penso sia uno dei meno friendly che abbia mai visto in vita mia ma fa la sua bella figura pure lui e vedete che lungo adesso la telecamera non la potete allontanare troppo da dove è il vostro personaggio il gioco ovviamente dato che me l'avevate chiesto nella scorsa nella scorsa scorso video non è multiplayer non ha modo di multiplayer e non è in italiano e non avrà probabilmente mai il multiplayer l'italiano così come il multiplayer è un gioco che si presta bene a fare quello che fa è un po' un banner lord mountain blade ma con survival non saprei neanche io come definirlo no non si può fare nulla con questo non si può fare nulla non c'è neanche nulla da oh c'è qualcosa qui empty room battle c'è un tasto perché avevo incontrato nell'altra partita un tizio che mi ha detto che aveva prodotto del room ma le guardie gliel'avevano sequestrato tutto e quindi poteva lavorare per me come esperto distillatore ma alla fine voleva 6.000 al giorno io non li avevo salve ma c'è qualcuno qui mi siedo si può parlare con lei no posso dormire nel suo letto si non mi dice niente questo qua è una mieva totale possiamo attaccare possiamo fare quello che vogliamo insomma adesso bisognerà trovare il modo di fare i primi soldi e non so onestamente come si dovrà andare in un'altra città quello senza altro perché credo che qui non ci sia nulla da rubare se non che non si vada magari in stealth a rubare qualcosa all'interno di questa di questo bar ma sarebbe una scelta abbastanza stupida secondo me si può uscire anche da questa e vedete che è l'uscita giusta per andare perché ci fa vedere dove stiamo guardando è l'uscita giusta seguendo questa strada che costeggia questa roccia per andare alla seconda città ed eventualmente lì ci andremo prossimamente per intanto voglio chiedervi che cosa ne pensate perché so che tanti hanno visto il video vecchio che avevo fatto quasi 4 anni fa l'avevo fatto il 29 giugno 2018 il gioco poi è uscito in 1.0 a dicembre e vi chiedo che cosa ne pensate appunto se l'avete già visto sull'altro qualche anno fa se siete nuovi appena arrivati sul canale non l'avevate mai visto spero di avervi portato una bella chicca perché il gioco è veramente fantasmagorico fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Kenshi e dal mondo delle lande desolate di gente vestita come delle mummie è tutto alla prossima e ciao ciao